Un, due, due, un, due, tre, un, due, quattro, un, due, cinque, taglio, un, sei, bam, bam, sette, attacco, indietro, otto, attacco, cambio la mano, questa è la chiave dita, paro sotto e passo sotto, indietro, ecco, ecco la nuova chiave, ok, applicazioni. Ecco, una domanda, mi sembra farlo di fare in basso, anziché parlare più, più attenzione di attesa, no, cioè, questo, questo qua, dai, il primo, il primo, i primi quattro, ah, i primi quattro no, i primi quattro sono, adesso hai anticipato una cosa che è giusta, quando pari fai, un, o che ti copri sotto le abumbe, sì, non è la mano, non è il bastone che si alza e il corpo che si alza, quindi, quando arrivi fai, un, due, so che se lo fai due minuti così, se ti muovo dopo le ore, no, quindi, quindi, un, bam, bam, quando lo fai con l'applicazione, quello che facciamo adesso è, vedi come è, vedi piccolo, piccolo, è sempre così, guarda che, è solo su questo, è sempre proprio su questo, vedi come è colpe, guarda, questo è anche il palazzo, vedi come è colpe, diciamo,